L'Italia aveva bisogno di un ancoraggio più solido al grande patrimonio di valori di uguaglianza, libertà, legalità, solidarietà, umanità, che avrebbero dovuto tornare a guidare l'azione politica dei grandi partiti democratici di massa, anche se molto diversi fra loro, in termini di cultura politica e ovviamente anche di basi programmatiche. Era un sogno che si è realizzato, un atto d'amore per l'Italia, che potesse scacciare però un incubo, un sogno che era parte di una generazione che aveva vissuto dal 1989 al 1994 diversi e diversi accadimenti epocali. Innanzitutto la caduta del muro di Berlino, con il suo carico di fiducia e di speranza per il futuro, per la possibilità di costruire una nuova Europa all'insegna della pace e della cooperazione fra i popoli. Ma anche l'incendio, da allora mai più domato, del Medio Oriente e del continente africano, le cui guerre continue ancora oggi in corso, con il loro carico di odio, di povertà e distruzione, hanno alimentato da un lato il fondamentalismo islamico e il terrorismo internazionale e dall'altro un inarrestabile processo migratorio di massa. E infine la disgregazione della cosiddetta Prima Repubblica italiana, sotto i colpi mortali della questione morale, ma prima ancora della sterilità e dell'inconcludenza della politica, responsabile dell'impennata di una spesa economica improduttiva, clientelare, del debito pubblico, dell'inflazione, delle conseguenti e relative svalutazioni della moneta. Il peso del debito pubblico che grava sulle nostre spalle, su quelle più vulnerabili dei nostri figli, trae origine proprio da quegli anni immediatamente precedenti alla crisi della caduta della Prima Repubblica. Da quell'incontro di Monteveglio sono trascorsi 25 anni. Ricordo come fosse ieri la comune convinzione di Don Giuseppe Dossetti e Nildeiotti di considerare quale atto fondativo della Costituzione della Repubblica italiana, cito testualmente le parole di Don Giuseppe, la drammatica e impellente tragedia per l'umanità rappresentata dalla Seconda Guerra Mondiale con i suoi 55 milioni di morti uccisi in azioni belliche e un coinvolgimento mai visto delle popolazioni civili. Una guerra, sosteneva ancora Don Giuseppe, che ha portato a un montamento mai verificatosi nella mappa del mondo, in Europa, in Asia, in Africa, attraverso il declino delle grandi potenze europee, la costituzione di due blocchi mondiali contrapposti guidati da antitetiche ideologie, l'inconsistenza morale dei grandi imperi coloniali, l'affacciarsi di due vecchie entità in passato apparse dormienti ma avviati a rivelarsi protagonisti mondiali come la Cina e l'India, infine l'eccezionale incremento delle nuove tecnologie. Questo diceva Don Giuseppe Dossetti nel 1994. Anche il più sprovveduto e il più ideologizzato dei costituenti, continuava Don Giuseppe, non poteva non sentire sulle sue spalle l'evento globale della guerra appena finita. Ecco, io penso che forse proprio da quella consapevolezza dei padri costituenti si è affermato nella sostanza, ancora prima che nel dettato costituzionale, quel diritto alla libertà e quel dovere di responsabilità dei parlamentari in quanto rappresentanti della nazione per i quali non si possa mai pretendere vincolo di mandato, ossia la cieca e automatica obbedienza al leader di partito. È pur vero che nei decenni di attività parlamentari vi sono stati imbarazzanti e censurabili trasformismi, obbiechi interessi individuali, condotte morali di bassissimo livello, fino ad arrivare addirittura, lo ricorderete nel corso del secondo governo Prodi, ai danni dello stesso governo, il tentativo di compravendita e corruzione di alcuni parlamentari, tanto da provocare indagini e processi da parte della magistratura. Ma è anche vero che in una Repubblica parlamentare un deputato e un senatore non possono in alcun modo essere considerati semplici esecutori di decisioni prese altrove da parte dei capi dei partiti. Ecco perché per esempio il Capo dello Stato non scioglie le Camere qualora esista una maggioranza parlamentare disponibile a sostenere un governo. Come ben ha dimostrato, e qui gli rivolgo il nostro ringraziamento, il Presidente Sergio Mattarella, a cui va tutta la nostra fiducia e la nostra riconoscenza per il modo equilibrato, saggio, con il quale esercita le prerogative che la Costituzione affida al Capo dello Stato. Chi dovesse sostenere il contrario non conosce, o finge di non conoscere, uno dei principi cardine della nostra democrazia. La Costituzione della Repubblica Italiana come legge suprema universale rappresenta anche al nostro tempo la migliore difesa per la nostra democrazia. Oggi più che mai è evidente lo smarrimento ideale di molti cittadini, la rabbiosa grettezza dei messaggi politici, la profonda modificazione delle comunicazioni sociali e del linguaggio individuale e collettivo, l'avanzare del populismo e della demagogia come strumenti ingannevoli di connessione sentimentale fra le masse popolari e i leader politici, con pericolose e mai nascoste veleità autoritarie. È preoccupante l'affacciarsi prepotente in Italia, in Europa, nel mondo, di ideologie sovraniste che altro non sono, se non la riproposizione delle condizioni politiche e sociali che portarono nel Novecento all'affermazione del nazionalismo esasperato, del rassismo di Stato, dei conflitti insanabili soprattutto all'interno del continente europeo. Ma oggi come ieri la Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta un'argine invalicabile, un presidio di democrazia capace di fermare ogni tentativo di concentrazione dei poteri, di opporre resistenza a chi dovesse persino invocarli i pieni poteri, magari in nome di un consenso popolare momentaneo e come tale fluttuante, oppure nei confronti di chi pensa che la mobilitazione di piazza possa superare lo Stato di diritto. Don Giuseppe Dossetti e Nildeiotti non escludevano affatto modifiche limitate e circoscritte della Costituzione. Cito sempre Don Giuseppe quando affermava la necessità di operare certe modifiche nelle funzioni e nella struttura delle Camere, che altro non erano se non una revisione puntuale del bicameralismo paritario e una diminuzione del numero dei parlamentari, nel rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio nei confronti dei partiti e dei ministri, nell'ampliamento dei poteri regionali. Emozionante fu anche il momento in cui, alla presenza di tanti giovani impegnati nell'attività di Amnesty International, e qui voglio ringraziare Giuseppe Giliberti e Anne Dreherup che con me condussero quella bellissima esperienza in cui Monteveglio formò mille giovani in dieci anni impegnati in Amnesty International. Ebbene Nildeiotti sostenne che vi fossero dei limiti impliciti e insuperabili per le leggi ordinarie e persino per quelle di revisione costituzionale. Nildeiotti individuava per esempio come insuperabile il principio della sovranità popolare e della democraticità della Repubblica e il principio di inviolabilità dei diritti umani. Quel monito la Presidente Iotti non lo rivolgeva soltanto al legislatore ma anche e soprattutto a noi cittadini. Noi che non possiamo in nessun modo per nessun motivo giustificare la violazione dei diritti umani che per la Costituzione non sono i diritti dei cittadini ma degli esseri umani in quanto tali. Tanti altri avvenimenti straordinari sono caduti negli anni successivi forse anche per effetto di quel confronto. Sicuramente ci fu un proficuo e conseguente lavoro comune nei comitati per la Costituzione di tanti cittadini diversa espressione politica e varia estrazione sociale. Anche qua anche da parte mia lasciatemi rivolgere un pensiero affettuoso e commossa un uomo straordinario che non dimenticheremo mai Alessandro Baldini che sono certo ci guarda e ci incoraggia a proseguire l'analisi e lo studio senza cadere in suggestioni ma imparando a ragionare come ci diceva sempre. Negli anni immediatamente successivi ci fu anche la nascita dell'ulivo con l'intenace protagonismo di Romano Prodi che proprio qui piantò il suo primo ulivo nel giugno del 1995. Dopo una lunga transizione politica poi nel 2007 giunse anche la nascita del Partito Democratico grazie alla leadership lungimirante e contagiosa nel suo entusiasmo di Walter Veltroni. Un partito riformista non classista che aveva l'ambizione di rappresentare la gran parte della società italiana in uno sforzo di sintesi di unità senza precedenti per l'affermazione della democrazia, dei diritti sociali, dello sviluppo, della sostenibilità e della legalità. Un partito che mise in evidenza con il trascorrere degli anni e nelle varie gestioni politiche tutte le sue potenzialità e tutti i suoi limiti che ne hanno segnato i grandi successi e le mare sconfitte. Una casa comune di tutti i democratici e riformisti che spero non perda altri inquilini e non subisca altre scissioni. Lo affermo perché una democrazia è forte quando nel campo conservatore e in quello progressista vi sia certamente una pluralità di idee e di soggetti politici perché il sistema nel suo complesso non cada nella frammentazione fino a se stessa e nella parcellizzazione dei partiti. Se oggi ci troviamo qui di nuovo è perché anche oggi occorre comprendere e interpretare i grandi mutamenti del nostro tempo, trarne la giusta ispirazione e forse persino per molti di noi ritrovare un buon cammino, uscendo da quel senso di smarrimento, da quel disincanto, da quel disagio di cui non di rado viviamo in rapporto con la politica. Ho deciso, dopo averne discusso con la Fondazione Antonino Caponnetto, di cui mi onoro di far parte, di promuovere questa riflessione pubblica insieme all'onorevole Andrea De Maria, che come sindaco di Marzabotto, allora, nei dieci anni del suo mandato, ha tenuto in vita gli ideali di antifascismo e libertà, addirittura organizzando, e io non lo ringrazierò mai abbastanza per questo, a Montesole, un altro storico incontro, quello tra il Presidente della Repubblica Carlo Aseglio Ciampi e il Presidente tedesco Rao, che per la prima volta in Italia si pronunciò contro i crimini nazisti. Fu alla sua presenza. E ovviamente insieme a Walter Veltroni, che oggi come ieri per me e per tutti noi rappresenta uno dei più grandi giacimenti di cultura politica, onestà intellettuale, limpidezza morale, dal quale sono certo potremo ancora attingere in futuro. Perché se è vero, caro Walter, che oggi sei distinto dalla politica come professione, sono certo che non ne sarai mai distante come idealità e passione. Per quanto ci è sembrata, diciamo, questa serata importante per discutere del passato, anche di quello che è stato, io offro ai miei autorevoli interlocutori alcune brevissime sintetiche riflessioni proprio per capire le sfide che ci attendono per il futuro. Perché in questi ultimi vent'anni il mondo e ovviamente anche l'Italia hanno vissuto quattro eventi epocali e globali che hanno cambiato profondamente la geografia, l'economia, la storia, le relazioni politiche e sociali come mai in passato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il primo è senza dubbio la globalizzazione dell'economia e della finanza, che ha aperto nuovi mercati al prezzo di un netto peggioramento delle condizioni di lavoro di milioni di lavoratori ed ha prodotto quel senso di vulnerabilità collettivo, soprattutto in Europa, a vantaggio delle nuove potenze economiche e demografiche asiatiche. Il secondo sconvolgimento, solo in parte diretta a conseguenza del primo, è stata la grande crisi economica internazionale, anche questa senza precedenti, nella quale, pensate, gli occupati in questo Paese sono passati dal 2008 al 2013 da 25,3 milioni a 24,3 milioni, facendo registrare un calo della produzione e dell'occupazione tra i più significativi in Europa. Da quella crisi la nostra economia è uscita come da una guerra. Con quella crisi, infatti, non sono soltanto calati i consumi degli italiani, falliti in alcuni comparti oltre la metà delle aziende, crollati i livelli di benessere del ceto medio, incrementate in modo esponenziale le condizioni di povertà assoluta e relativa di tante famiglie italiane. Ma è cambiata anche la nostra percezione sul futuro, più incertezza, più precarietà, più ingiustizie sociali e più conflitti. E ancora la rivoluzione digitale in corso, con il suo carico di opportunità e di pericoli. Solo 15 anni fa non c'erano gli strumenti che oggi noi riteniamo indispensabili per la nostra vita, come gli smartphone, con i quali siamo di gran lunga più connessi ad internet e quindi al mondo di quanto non fossimo con un normale computer qualche anno fa. Non c'erano i social media, che oggi contano oltre 2,3 miliardi di utenti nel mondo e 35 milioni di utenti in Italia, oltre la metà della popolazione sta cambiando il modo di comunicare, la velocità e la profondità del modo di ragionare, non sempre migliori di prima. Non c'erano i servizi diffusi digitali, le mappe online e non era così diffusa l'intelligenza artificiale e la robotica, che nei prossimi dieci anni aumenterà la produttività del 30% e contemporaneamente potrebbe ridurre il fabbisogno dei lavoratori pubblici e privati in ruoli non più necessari di oltre un terzo dell'attuale forza lavoro. Il quarto evento è, se possibile, ancora più potenzialmente forte, perché riguarda il mutarsi repentino delle condizioni climatiche del nostro pianeta con sconvolgimenti enormi sul piano ambientale e sul piano economico-sociale. Ecco, le azioni che potrebbero accompagnare questi eventi epocali sono note da tempo. Quel che manca non è la conoscenza, semmai la volontà politica e la condivisione fra le grandi potenze mondiali. Persino in Italia siamo divisi su come interpretare questo cambiamento. Ciò che è buffo, se non fosse drammatico, è che siamo uniti dallo stesso destino, ma divisi dai differenti interessi. Riusciremo quindi a pensare globale e agire locale, come ci insegnava Don Giuseppe. Saremo capaci di proteggere il futuro dei nostri figli, anziché difendere il nostro presente. Sono convinto che non sia una classe dirigente che si possa scegliere le sfide da affrontare. Piuttosto sono le sfide più impegnative che formano una classe dirigente. Per questo oggi non abbiamo bisogno di una nuova Costituzione. abbiamo bisogno, semmai, di attingere a quello spirito costituente che Monteveglio ha saputo valorizzare nel tempo. Grazie.